Buongiorno bambini! Sono la maestra Stefania. Oggi vi presenterò due nuovi suoni e per farlo vi racconterò una storia. Siete pronti? Un giorno nel paese dell'alfabeto scoppiò un brutto temporale e così le lettere P e B scivolarono su una pozzanghera. La lettera N passava da lì e provò a sollevarle, ma avendo solo due gambe non ci riuscì. Le due letterine infatti avevano due grosse pance. Per fortuna passava da lì la lettera M che con le sue tre forti gambe riuscì a sollevare le due sventurate. Da quel giorno M, P e M e B furono inseparabili e formarono insieme tante paroline. Leggiamone alcune! Ciao bimbi! A presto!